Un valore estremamente importante, non solo per quanto concerne la raccolta fondi, sicuramente questa sarà una serata in cui rideremo, ma rideremo per far piangere meno i bimbi dell'Ucraina, così come i bimbi di tutti quei focolai di guerra in giro per il mondo. Perché come voi ben sapete l'UNICEF è impegnata a 360 gradi su tutti quei fronti di guerra aperti dove ci sono bambini che soffrono, ma ha un'importanza anche dal punto di vista simbolico, perché ancora una volta dimostra che la Calabria c'è, che Catanzaro c'è e io di questo sono veramente grato al popolo calabreso. Certo, sicuramente, Giuseppe sta facendo già un ottimo lavoro, si è ritrovato anche in un momento di emergenza, devo dire veramente che sta dimostrando di portare avanti questa presidenza in modo molto forte. Io questa sera sono veramente onorato di poter condividere questo spettacolo, uno spettacolo di beneficenza, ecco voglio ringraziare anche gli artisti che si stanno prodigando che tutto ciò avvenga nel migliore dei modi, ecco portare anche nello stesso tempo della solidarietà. Ma Unicef sta facendo un ottimo lavoro a livello internazionale, c'è una grande attenzione da parte dell'Unicef, non solamente poi per i bambini ucraini, perché le emergenze sono anche in tante altre parti del mondo, basta pensare a Siria, Afghanistan, però ecco questa è una cosa che ci tocca ancora più da vicino e deve dire che Unicef sta facendo veramente un grande lavoro e il nostro territorio, il territorio di Calabria sta dimostrando veramente tanta generosità. L'acqua non c'è, è andata via, mi manca da riempire il cato, fa calda e su da assai, ma sto comunque riparato, forse è tornata adesso, oh no, va a bidio caldo grosso e dichiarò, che avesce sull'acqua l'alta e puro calci sull'interra, l'acqua c'è e poi ci sono i milioni, il giorno è l'anzardo, sempre più 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 Grazie a tutti.